Competenza Corn Cracker per la Jaguar Class offre ora tre diversi multi-crop cracker denominati anche MCC. Il modello MCC Classic offre il trattamento classico con una lunghezza di trinciatura di 5 mm. Il prodotto di raccolta viene espulso dal tamburo di trinciatura. Il trinciato di 5 mm di lunghezza viene alimentato al Corn Cracker MCC Classic. I classici rulli sono equipaggiati con file continue di denti con un profilo a dente di sega. I rulli di 250 mm di diametro sono dotati ciascuno di 125 denti. La quantità di denti determina la capacità di presa del raccolto e l'intensità del trattamento dei grani. Più denti per grani di piccole dimensioni, come i cereali, meno denti per il mais. Con un differenziale di velocità del 30% in dotazione di serie, il prodotto proveniente dal tamburo di trinciatura passa senza perdite attraverso il Corn Cracker per il trattamento ottimale. Il differenziale di velocità ha un impatto decisivo sull'effetto di attrito. La regolazione della distanza dei rulli influisce sull'intensità del trattamento, ovvero sull'effetto di frantumazione dei grani. Il profilo a dente di sega e il differenziale di velocità dei rulli del Cracker assicurano la rottura dei pezzi degli steli e la lacerazione delle foglie. I grani e le sezioni della pannocchia vengono frantumati in più parti distinte. Il risultato è un prodotto omogeneo con una lunghezza di taglio di 5 mm, ideale per gli impianti di biogas. Il Multicrop Cracker Max trova applicazione in svariati ambiti. È concepito per l'impiego con un range di lunghezze di taglio variabile da 8 a 22 mm. MCC Max consiste di 15 grandi e di 15 piccoli anelli segmentati per rullo. L'ingranamento degli anelli segmentati larghi 20 mm assicura un effetto di taglio supplementare permanente anche al variare della distanza tra i rulli. MCC Max opera di serie con un differenziale di velocità del 30%. La distanza tra gli anelli segmentati è perfettamente visibile. Anche le parti più piccole vengono tagliate quando si trovano esattamente tra i bordi adiacenti degli anelli segmentati. È questo l'effetto di taglio. La massa fogliare viene lacerata e tagliata. I grani e i pezzi della pannocchia vengono frantumati in molteplici pezzi. Il risultato del modello MCC Max con una lunghezza di taglio di 8 mm è paragonabile a quello del modello MCC Classic con 5 mm. Il Multicrop Cracker Max si distingue per i suoi svariati campi di applicazione, da lunghezze di taglio corte a lunghezze di taglio che raggiungono i 22 mm. I denti degli anelli segmentati in posizione obliqua esercitano un leggero effetto di rotazione sul prodotto. Soprattutto con le grandi lunghezze di taglio si può chiaramente osservare che gli steli non vengono soltanto rotti o tagliati, bensì parzialmente sbucciati. Il risultato mostra foglie lacerate, tagliate, sfibrate e grani e sezioni della pannocchia frantumati in più parti. Taglio lungo con grani schiacciati, un alto contenuto di fibre e una buona struttura. Shredledge è una tecnologia di insilamento basata su un taglio estremamente lungo, da 22 a 30 mm. La robusta struttura del Multicrop Cracker consente di trattare questo tipo di insilato in modo affidabile anche alle elevate capacità produttive. Come nel modello MCC Classic, anche i rulli di MCC Shredledge sono equipaggiati con un profilo a dente di sega. Una scanalatura elicoidale fresata fornisce un trattamento trasversale supplementare del prodotto. Il differenziale di velocità del 50% offre un eccellente effetto di attrito. Le scanalature elicoidali servono a far sì che i pezzi degli steli vengano liberati dalla corteccia e che la parte morbida interna venga frantumata in più pezzi. La massa fogliare viene lacerata e sfibrata. Questo processo garantisce una perfetta struttura del foraggio insieme alle parti estremamente ben trattate degli steli. Le sezioni della pannocchia vengono frantumate e i chicchi del mais vengono ben schiacciati per garantire la massima disponibilità dell'amido. Shredledge, incisione perfetta dei grani con un'elevata percentuale di fibre e struttura con lunghezze di taglio estremamente lunghe. Il tipo di trattamento richiesto del foraggio determina la scelta del modello di Multicrop Cracker da utilizzare. Tutti i corncracker delle serie Jaguar 900 e 800 vengono prodotti presso la sede class di Paderborn in Germania. La fresatura dei diversi rulli, così come il processo successivo di Tempra, vengono eseguiti con estrema precisione. Anche il montaggio del Multicrop Cracker viene eseguito con la più grande cura e la massima precisione del dettaglio. La qualità è sempre in prima linea. Class Multicrop Cracker per un perfetto trattamento del prodotto di raccolta e per la massima affidabilità.